Nuove rivelazioni nello scandalo delle protesi mammarie difettose. Il colosso tedesco di prodotti chimici Brentag e la filiale francese di China National Bluestar Corporation, leader nella fabbricazione di silicone, ammettono di aver venduto gel industriale alla società francese P.I.P., Poly Implant Prothesis. P.I.P., che aveva dichiarato l'utilizzo di un gel alimentare non omologato, ha venduto 400.000 protesi difettose in tutto il mondo. Il portavoce di Bluestar International. Abbiamo venduto tramite i nostri distributori prodotti della gamma Rodorsil, che è una gamma destinata a utilizzo industriale, come la fabbricazione di pneumatici, gli antischiumogeni nell'industria petrolifera durante l'estrazione o nel trattamento delle acque di scarico. Il silicone industriale, dieci volte meno costoso di quello medico, ha la tendenza a rompersi. Ora resta da stabilire se estrarre le protesi difettose e chi pagherà. Non ci sono studi né a lungo né a breve termine su quello che può accaderci avendo un gel industriale nel nostro corpo. Credo che se la sanità lo ha ritirato dal mercato, dovrebbe ritirarlo anche dal nostro corpo. Per questo medico spagnolo tutto il sistema è sbagliato. Vorrei che si sapesse che il sistema di vigilanza ha fallito, ma ha fallito in Spagna perché non ci sono state denunce, come non ci sono state in Francia o in Inghilterra, perché i congressi dei chirurghi sono patrocinati dalle case commerciali e tu non vai a parlare male del tuo fabbricante. Grazie a tutti. Grazie a tutti.